Due giornate di studi organizzate dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con la Società Napoletana di Storia Patria e il suo Rorsola Benin Casa per ricordare Giuseppe Galasso, tra i più autorevoli rappresentanti della storiografia europea della seconda metà del Novecento e maestro di tante generazioni di studiosi. Il convegno si è aperto questa mattina nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli che si è soffermato sul messaggio di Galasso e sul ruolo attuale del Meridione. Il contesto nel frattempo è anche molto cambiato, veniamo da una stagione di turbulenze economiche, di pandemiche, di avere un'attenzione speciale per il Sud resta una missione inderogabile. Napoli è la città centrale per eccellenza. Ad accogliere il Ministro il coordinatore delle politiche culturali del Comune Sergio Locoratolo. L'impegno civile di Galasso è stato un impegno a 360 gradi, intellettuale, storico, politico, tra l'altro noi lo ospitiamo oggi al Maschio Angioino che era una delle sue case perché Galasso è stato anche assessore al Comune di Napoli ed è stato anche sindaco incaricato nel 1975 prima di Valenzi, poi non riuscì a formare la maggioranza e quindi rinunciò. La due giorni dedicata allo storico che seppe unire l'impegno politico a quello accademico ed ebbe un ruolo significativo nella vita civile della città prosegue nel pomeriggio nella sede della Società Napoletana di Storia Patria della quale Galasso fu per 30 anni presidente e si concluderà domani nella Biblioteca Paiara dell'Università Sor Ursula dove Galasso fu professore di storia moderna. Tra i primi nel Novecento intuì che la questione meridionale era una questione italiana, era una questione europea fortemente legata ai destini dell'Occidente. Tra l'altro la sua legge sulla tutela paesaggistica è una legge che ha fatto scuola in Italia da cui poi è derivato il codice dei beni culturali, quindi veramente un maestro che degnamente va celebrato e così fa crimine.